Come funziona la detraibilità dell'IVA sulle auto? Quanta IVA puoi recuperare relativamente alle spese che fai nella tua autovettura? E come si registra questo recupero dell'IVA in contabilità? Vediamolo in questa lezione. In questa lezione andiamo a parlare di detraibilità dell'IVA sulle auto. Quindi cosa vuol dire materialmente? In sostanza vogliamo capire quanta IVA possiamo effettivamente recuperare sugli acquisti che facciamo di autovettura e anche poi le spese di mantenimento dell'autovettura. Quindi innanzitutto partiamo dal presupposto che quando facciamo un acquisto di un'autovettura, anche appunto nel momento in cui abbiamo spese di manutenzione, abbiamo il carburante, ecco che in questo acquisto c'è incorporata anche un'IVA al 22% nella stragrande maggioranza dei casi. Ora bisogna capire questo 22% di IVA come dobbiamo andare a recuperarlo, quanto è l'importo che possiamo andare a recuperare e poi anche come registrare in contabilità. Prima di andare a capire quanto possiamo recuperare, dobbiamo andare a capire i termini, quali sono i termini corretti, perché molto spesso si fa confusione. Nello specifico i due termini sono detraibilità o detraibile e l'altro termine è deducibile. Quindi qual è la differenza tra questi due termini, perché molto spesso si fa un po' di confusione come ti dicevo. Allora per quanto riguarda l'IVA parliamo di detraibilità, vuol dire che è appunto quanto io posso recuperare di IVA, quanto credito di IVA posso avere, adesso andiamo nello specifico. Per quanto riguarda invece la deducibilità è legata a un costo che può essere inseribile nella dichiarazione dei redditi. Quindi la detraibilità è praticamente legata a un vero e proprio sconto di imposta, quindi ci sono poi tutte le detrazioni fiscali, quindi è un bonus, diciamo uno sconto di imposta. Invece deducibile è un costo che io posso o meno, a seconda delle regole, inserire nella dichiarazione dei redditi e ovviamente andare a ridurre il mio reddito imponibile, ma solo in un secondo momento ovviamente a ridurre anche la tassazione. Quindi questo mi riduce il reddito imponibile, questo mi riduce effettivamente direttamente l'imposta. Quindi se stiamo parlando di IVA andiamo a parlare di IVA detraibile oppure indetraibile. Andiamo a concentrarci ora con appunto le nostre autovetture. Bene, il concetto è che per quanto riguarda le autovetture, l'IVA è detraibile secondo appunto l'utilizzo che ne facciamo. Cioè quindi potremmo avere un utilizzo esclusivo dell'autovettura per finalità aziendali oppure potremmo avere un utilizzo promiscuo, cioè quindi un utilizzo sia aziendale sia privato, personale. Ora, come dobbiamo comportarci? Ecco che la regola è questa. Quindi per quanto riguarda IVA detraibile, i casi abbiamo detto che sono due. Quindi nel caso in cui io faccio un uso aziendale l'IVA è al 100% detraibile. Nel caso in cui io faccio un uso promiscuo l'IVA è detraibile al 40%. Quindi se io l'autovettura la utilizzo solo esclusivamente per la mia attività aziendale, quindi vuol dire che l'ho comprata e i dipendenti per esempio la utilizzano solo quando arrivano in sede per le varie attività che devono svolgere e poi terminato il turno di lavoro l'autovettura resta in sede, quindi non c'è un utilizzo esterno rispetto all'utilizzo aziendale, allora IVA detraibile al 100%. Attenzione che in questo caso devo provare l'utilizzo aziendale al 100%, a differenza per esempio degli autocarri in cui non devo provare l'utilizzo aziendale perché si parte dal presupposto, si suppone che l'autocarro sia a uso esclusivamente aziendale, con l'autovettura no. Quindi se io riesco a provare che l'utilizzo è solo aziendale 100%, diversamente se ho un utilizzo promiscuo c'è questa percentuale di detraibilità del 40%, vuol dire che il 40% è detraibile e ovviamente di conseguenza il 60% sarà indetraibile. Queste sono percentuali imposte, quindi il concetto è che non vale un discorso che se io faccio un uso promiscuo per solo il 10% e l'altro 90% è aziendale, allora recupero il 90% e il 10% no. Diciamo che o è 100% oppure è 40% detraibile, quindi in certi casi potrei guadagnarci, quindi se magari io faccio un uso aziendale molto ridotto e molto uso privato, personale, è chiaro che magari ho un guadagno. Diversamente se io ho un uso aziendale ma non esclusivo, cioè diciamo molto importante ma non esclusivo e poi ho un uso comunque privato, è chiaro che potrei avere un IVA che non recupero perché appunto mi viene imposta questa percentuale del 40%. Quindi materialmente queste sono le regole che devi sapere. Poi a livello contabile cosa devi sapere? Devi sapere che innanzitutto queste percentuali si applicano, come ti dicevo, sia all'acquisto dell'autovettura ma anche a tutti gli oneri accessori, cioè quindi nel momento in cui poi l'autovettura viene acquistata, tutti gli acquisti successivi correlati all'autovettura, che possono essere manutenzione, possono essere lavaggio, possono essere cambio gomme, possono essere tante altre spese sempre legate, pedaggi, legati all'autovettura, ecco che ci sarà sempre questo aspetto da considerare. Quindi se è uso promiscuo avrò per tutto quello che ne consegue sempre 40% detraibile e 60% indetraibile. A livello contabile, poi come registro appunto la detraibilità e l'indetraibilità? Per quanto riguarda la detraibilità è abbastanza semplice, quindi come registri una fattura fornitore con IVA totalmente detraibile, l'IVA appunto detraibile è un credito che io ho nei confronti dell'erario e quindi è diciamo un attivo dello stato patrimoniale, quindi andrò a mettere attivo dello stato patrimoniale l'IVA detraibile, che poi ovviamente andrò a confrontare con l'IVA passiva, cioè quindi quella legata alle vendite, farò la mia liquidazione IVA e andrò a vedere se devo versare l'IVA per quel mese o per quel trimestre, oppure sono accredito d'IVA complessivamente. Ma quello che ci interessa è 60%, il 60% visto che comunque devo quadrare la scrittura come la vado a registrare. Ecco che la risposta è l'IVA indetraibile va a sommarsi al costo di riferimento, cioè quindi se stiamo parlando per esempio di manutenzione, tu avrai l'imponibile che sarà ovviamente il costo manutenzione, poi avrai il 40% del 22% che sarà IVA a credito ovviamente. Il 60% del 22% di IVA cosa sarà? Sarà un costo, cioè andrai a inserirlo come se fosse un costo della manutenzione. Quindi l'IVA indetraibile va a maggiorare il costo di riferimento. Apriamo poi una parentesi sulla deducibilità, anche se appunto è un concetto diverso, insomma per farti capire appunto la differenza, abbiamo detto che la deducibilità è legata al costo, quindi è un discorso prettamente di dichiarazione dei redditi, non è tanto un discorso contabile, perché a livello di contabilità, di registrazione contabile, quello che ti interessa è la detraibilità o meno. Per quanto riguarda la deducibilità, in questo caso l'IVA non ci interessa più, ma la deducibilità del costo, allora in questo caso abbiamo diversi scenari, perché abbiamo lo scenario del costo totalmente deducibile, cioè quindi se io ho appunto l'IVA totalmente detraibile, perché ha un uso esclusivamente appunto aziendale, anche il costo sarà totalmente deducibile. Poi considera che ci sono comunque dei tetti di valore complessivo, di costo di acquisto dell'autovettura, oltre il quale comunque diventa in ogni caso indeducibile. Ma diciamo che il costo in questo caso, essendo completamente inerente all'attività, è 100% deducibile. Poi abbiamo un altro caso, che però poi si suddivide in due casi, in realtà abbiamo un 80% e un 20%, cioè nell'ambito dell'utilizzo non totalmente aziendale, bisogna andare a verificare se stiamo parlando di agenti di commercio, in questo caso il costo sarà 80% deducibile e il 20% verrà ripreso a tassazione, oppure stiamo parlando di tutto il resto, quindi per esempio un professionista che non è un agente di commercio. Allora in questo caso la deducibile è effettivamente abbastanza bassa, indipendentemente appunto dall'utilizzo che ne è fatto, ma purtroppo è 20% deducibile il costo e 80% sarà indeducibile. Quindi il caso del professionista, per esempio, che sostiene spese legate all'autovettura, in questo caso avrà 40% di IVA detraibile e 20% di costo deducibile. Ovviamente questo riguarda il, per esempio, il professionista in contabilità semplificata, in contabilità eventualmente, se stiamo parlando per esempio di anche società, ma il concetto è che se invece stiamo parlando di un professionista in regime forfettario, allora qui lo scenario cambia, nel senso che il regime forfettario ha tutte delle regole particolari, nel senso che il regime forfettario non ha l'IVA sulle vendite e quindi non può recuperare l'IVA sugli acquisti, quindi in realtà è totalmente persa e allo stesso tempo per quanto riguarda la deducibilità del costo, il calcolo del reddito nel regime forfettario non è calcolato in modo analitico, quindi la singola spesa andiamo a vedere quanto si può recuperare, ma è legato a un coefficiente di marginalità fisso, impostato, che è legato al codice a teco del professionista. Quindi questa è però una parentesi legata al caso particolare del forfettario. In tutti gli altri casi queste sono appunto le casistiche di detraibilità dell'IVA, 100% oppure 40%, e deducibilità del costo, 100% oppure 80-20%. Quindi questo è quello che appunto devi sapere sull'argomento. Come al solito se hai qualche dubbio, qualche domanda, qualche curiosità, inseriscila pure nei commenti sotto questo video, sono a tua disposizione per chiarire ogni dubbio, se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale, attivare la relativa campanella, così non ti perderai nessuna delle prossime lezioni che tengo periodicamente su questo canale. Se poi questo video ti è stato utile per capire la detraibilità e anche la deducibilità sia dell'IVA, la detraibilità dell'IVA, ma anche la deducita del costo, lascia un bel like che sicuramente mi fa molto molto piacere. E da ultimo, se vuoi ricevere in modo completamente gratuito le prime quattro lezioni del mio corso di contabilità online, in cui vado a spiegare come funziona appunto l'IVA, il meccanismo dell'IVA, cosa è detraibile, cosa non è detraibile, come si registra in contabilità, e poi tantissimi altri argomenti, rate, risconti, cespiti, per arrivare a un bilancio corretto, allora se vuoi ricevere quattro lezioni completamente gratuite, trovi il link nella descrizione sotto questo video, basta che lasci la tua email, le riceverai nella tua casella di posta elettronica. Per oggi è tutto, ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!